buongiorno amici dello zoccolo duro buongiorno 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 è un periodo che ho trovato questa radio 70 80 90 che sono tutte ste canzoni retro mi piace sono mix nessuno che parla solo musica ci sta ci sta ci sta come state ieri santo stefano non mi sono fatto sentire ragazzi non c'era molto da dire dai anche natale vi ho fatto un video veloce da oggi però ripartiamo ripartiamo perché ormai siamo in dirittura d'arrivo siamo in dirittura d'arrivo di conseguenza si riparte a bomba e sul 4 gennaio si gioca è praticamente la prossima è tra una settimana qualche giorno in più tra la settimana si gioca si gioca si riparte con il campionato e quindi dobbiamo ripartire anche noi a bomba 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 argomento di oggi argomento di oggi le ferie siamo in ferie cosa parliamo delle ferie anche se oggi un giorno lavorativo che 27 no però parlando seriamente parlando un secondo seriamente perché poi nelle grandi squadre i piccoli dettagli fanno la differenza no l'anno scorso abbiamo vinto di un punto ve lo ricordate poi abbiamo vinto di due però era quel punto che faceva la differenza soprattutto le ultime giornate e i piccoli dettagli fanno la differenza lasciamo stare tutte le cose di cui abbiamo parlato straparlato e riparlato gli infortuni i rinnovi che ancora stiamo aspettando il calciomercato inesistente come l'ha chiamato il mio amico briga il calciomercato fantasma noi facciamo il calciomercato fantasma ci aggiungerei non ne ho parlato in questi giorni no ma tanti me l'avete scritto io non ne ho parlato jerry ma almeno per natale ti vuoi far vedere venire a fare un saluto alla squadra gli auguri di natale niente manco per natale che rendiamoci conto di che proprietà abbiamo ragazzi e ha fatto una lettera ragazzi ma può essere che tu sei proprietà cioè io vabbè sono abituato male perché sono abituato ai moratti ai sensi ai berlusconi eccetera no ma questo c'è manco per natale a fare gli auguri almeno quello lì è venuto a fare le figuracce dicendo dei cinque euro a me ne è venuto era pure il suo compleanno ha fatto una festa con i calciatori a me i calciatori l'hanno visto questo non è manco venuto a salutare per natale ci rendiamo conto jerry sei partito malissimo si è arrivato non è comprato nessuno non vieni manco a fare gli auguri di natale il tuo primo mercato perché questo qua il tuo primo mercato sarà un mercato a zero i rinnovi non li hai fatti non so vedi tu jerry cosa vuoi fare ti sei presentato bene ma venuta che poi vieni quando abbia vinto lo scudetto ti fai le foto a sa in duomo con i tifosi e si è tifosi tutto l'anno 365 giorni l'anno anche quando protesti sei tifoso perché c'è gente che dice che se protesti non sei tifoso comunque chiusa la parentesi jerry ad oggi non l'ho ancora attaccato ma male male malissimo male male malissimo comunque lasciamo perdere tutti questi problemi che già abbiamo pensiamo alle cose positive e tra le cose che si possono fare no tra le cose che si possono fare io mi domando e dico scrivetemelo voi qua sotto perché magari o vivo io in un altro pianeta scrivetemelo voi qua sotto sentivo per le gatti già un po di giorni ma ci avevo pensato anch'io teo e girù teo e girù tornano al 30 perché hanno 10 giorni di ferie e le ferie per carità sono sacre per tutti no tornano al 30 e quindi poi per salerno non ci saranno e non si sa per la roma se sono disponibili speriamo di sì ma io mi domando dato che dobbiamo giocare con cdk attaccato sento dire che giocherà cdk io spero giochi rebic ma sento dire che giocherà fantasmino kinderino cdk prima punta io mi domandano se tu hai 10 giorni di ferie e c'è questa situazione no che tu torni se torni e torni 27 come è tornato leao no torni tre giorni prima e poi giochi giochi con la sernitana giochi con roma eccetera io mi domandano non si può fare magari sbaglio io un'idea mia no che invece di 10 giorni tutti insieme viene dai 7 e altri tre ieri dai un altro momento non può non si può fare non so io sta roba da impiegato delle ferie non le so magari voi io prendo le ferie quando mi pare che poi lavoro sempre praticamente non le prendo le ferie e scrivetemelo voi cioè non si poteva fare sette giorni tornavano il 27 in modo tale che potevano giocare con la sernitana con la roma per tre giorni no e quei tre giorni magari glieli dai quest'estate magari glieli dai a pasqua magari glieli dai in un altro momento non si poteva fare sta cosa qua no no ditemelo ma non è che il calcio perché non voglio che poi si va accusare il calciatore allora se tu gli dai le ferie non è che il calciatore dice vabbè prendi milioni non deve fare le ferie no il calciatore deve farsi le ferie come tutti giustamente le ferie sono sacre quindi non me la prendo con girù che non è tornato prima o con teo che non è tornato prima non aspetta a loro rinunciare alle ferie tutte le volte già spesso tornano prima non è che poi deve diventare no è normale voglio vedere voi se rinunciate alle ferie voglio vedere voi un giorno che non fate le ferie e tornate dal vostro capo dato che quelli che prendono stipendio però non quelli di libri professionisti che quelli ovvio che vanno a lavorare ma quelli che però si voglio vedere quante rinunciare alle ferie vanno a lavorare chiusa parentesi ma la società la società non può organizzarsi lei gli dai sette per tre giorni tre giorni gli dai poi magari gli dai di più quest'estate o gli dai di più in un altro momento non si può fare una roba del genere ditemelo voi eh eh no ma devono staccare perché hanno fatto il mondiale per carità di dio ti sto dicendo invece che fare dieci giorni gli dai una settimana no cioè io adesso mi devo presentare a salerno con ballo turè speriamo che ancora non sia a posto giochi pobega piuttosto pobega terzino e e ci dk prima punta cioè ripartiamo così voi mi state dicendo che noi a meno 8 dal napoli in una partita decisiva dove il napoli va a giocare a san siro con l'inter che quindi una delle due perde punte tu sei obbligato a vincere perché o guadagni dal napoli o guadagni dall'inter o guadagni da te due tu vai senza te o girù senza contare gli infortunati megnani bra eccetera 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 mi state dicendo questo per tre giorni di ferie che ci potevano spostare non lo so scrivetemi qua sotto se sono batto io o se era una roba proprio che ci poteva arrivare pure magari non si può fare non lo so fatemi sapere iscrivetevi al canale mettete un like ci vediamo alla prossima ciao belli si sdiva da svidania